Sabato 4 maggio la suggestiva Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate ospiterà un congresso medico dedicato al cuore e alle metodiche sempre più complementari di cardiologia interventistica e chirurgia. L'incontro che gode del patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato fortemente voluto dal dottor Marco Franciulli, presidente del congresso della clinica mediterranea ed è stato organizzato in sinergia con il professor Luigi Chiariello, direttore del centro cuore della clinica mediterranea. Saranno inoltre presenti per i saluti istituzionali a partire dalle ore 10 e 30 l'onorevole Aldo Patriciello, deputato del Parlamento europeo, componente della commissione ricerca e salute e il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli. Variegati gli argomenti che verranno trattati durante l'intera giornata formativa accreditata con 5 crediti ECM. Gli interventi, tutti di alto spessore, saranno a cura di medici specialisti provenienti da tutto il centro-sud Italia. Si spazierà dalla malattia della valvola aortica allo scompenso cardiaco, dalla fibrillazione atriale alla cooperazione fra medico e chirurgo, dalla chirurgia mini-invasiva alle patologie più frequenti nella terza età. Il congresso è diretto a cardiologi, cardiochirurghi, medici del territorio, cultori della materia, anestesisti, perfusionisti, specializzandi e studenti e richiesta la registrazione sul sito www.clinicamediterranea.it. L'idea è quella di creare una serie di congressi itineranti, svela il dottor Marco Franciulli, noto cardiochirurgo, che vanta un curriculum con esperienze anche all'estero, in Belgio e in Germania. Non potevo che scegliere Castellabate, mia terra d'origine, per raccogliere le testimonianze delle più eminenti personalità del settore cardiologia. Mi auguro che questa prima edizione possa essere solo l'inizio di un appuntamento costante e sono certo che, oltre all'interesse specifico sui temi scelti, anche il territorio cilentano farà da giusta cornice gradita ai partecipanti.